L'altopiano dei sette comuni, la montagna vicentina e quella veneta in generale stanno seguendo con apprensione l'evoluzione della stretta sulle attività sportive invernali prevista dal governo che potrebbe imporre uno stop allo sci per questa stagione. Stiamo lavorando assieme a tutti gli assessori delle regioni alpine per ovviamente fare pressioni presso il governo centrale per permettere la riapertura ovviamente della stagione invernale quindi la stagione sciistica. La regione sta approntando una serie di linee e protocolli in grado di garantire l'apertura della stagione sciistica in piena sicurezza e questa sarebbe una boccata d'ossigeno per tutto il territorio montano. Ricordiamoci che riaprire la stagione sciistica vuol dire creare un indotto dal valore di circa 20 miliardi di euro vuol dire che oltre allo sci c'è una vera e propria economia che vale l'1% del PIL nazionale che vuol dire far lavorare alberghi, ristoranti, nolleggi, tutto il sistema legato al mondo dello sci che è una delle economie fondamentali ma soprattutto ricordiamoci che per la nostra montagna lo sci è uno degli elementi principali per mantenerla viva ma soprattutto per far girare l'economia. La montagna si è già espressa portando le proprie istanze alla regione. Poter aprire quanto prima insomma vediamo che già tutti si stanno attrezzando stanno già inevando in alcune località anche le piste proprio in attesa di una risposta positiva da parte del governo sicuramente ci muoveremo anche nelle prossime ore perché insomma si possa veramente dare il via a questa stagione perché la nostra montagna ha bisogno ha bisogno di lavorare per poter continuare a rimanere viva soprattutto in un momento così difficile.